Cari amiche e cari amici, benvenute e benvenuti a questo culto evangelico su Radio Bequit. Oggi è la prima domenica di avvento delle quattro domeniche che preparano il Natale. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse. Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Ci raccogliamo in preghiera con un testo tratto dalla liturgia ebraica di Rosh Hashanah, il capodanno ebraico, che apre l'anno liturgico degli ebrei e la prima domenica di avvento apre il nuovo anno liturgico dei cristiani. Preghiamo. Padre nostro, la tua bontà, la tua benedizione, la tua grazia e la tua misericordia sono con noi e con tutti coloro che temono il tuo nome. Voglia tu benedire ciascuno di noi e tutti insieme con la luce della tua presenza. Perché, Signore nostro Dio, con la luce della tua presenza, tu ci hai dato la legge della vita e l'amore per la grazia, la giustizia, la benedizione, la misericordia, la vita e la pace. Sia lode a te, sorgente della pace. Amen. La tua bontà, 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 la tua bontà Grazie a tutti. 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 Di nuovo chi crede in colui che è già venuto per noi e che ha promesso di tornare e restare pienamente con noi. Amen. A tutti annuncia che nasce Gesù. Buon anno e la gioia e il camor per liberarci viene il Signor. Vive nel deserto, non più dimor, la via del Signor apriamo qua giù. A tutti annuncia che nasce Gesù. Un mondo nuovo si forgerà per liberarci viene il Signor. Pace qui in terra si avvierà, la via del Signor apriamo qua giù. A tutti annuncia che nasce Gesù. Vi invito a raccoglierci in preghiera. Signore Dio nostro, accogli la preghiera del tuo popolo in questo tempo di avvento. Ricordati della comunità di donne e uomini sparsa sulla terra. Nella fede commemoriamo la prima venuta del tuo figlio che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Nell'amore che Egli ha suscitato in noi, gioiamo per la sua venuta presente nello Spirito Santo. Nella speranza attendiamo il giorno in cui Egli tornerà nella gloria per donare la salvezza a tutti coloro che lo attendono. Signore, vieni a rafforzare la nostra fede, vieni a fortificare la nostra speranza, vieni tu stesso a suscitare l'amore che attendi da noi. Questo e ogni altra cosa te la chiediamo nel nome di Gesù Cristo che ci ha insegnato a pregarti anche con queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta alla tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo ora la benedizione del Signore. Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. Amen. Il Signore Grazie a tutti